Un giorno gliel'ho detto alla professore, lei sta andando per la sua e a noi si guarda dall'alto come mosche in un bicchiere, gli ha regalato un libro, I Cerenaici e la coltura delle api. Abbiamo un figlio, io come il professore. Io non lo so mica come ho fatto. Eccolo là. Grazie.